Simone, c'è stato un esordio in campionato che ha dato indicazioni positive ma che ha lasciato un po' di amarezza inevitabilmente per il risultato finale. Da dove siete ripartiti in questa settimana di lavoro? Adesso stamattina abbiamo fatto lavoro fisico, quindi oggi pomeriggio poi ci incontreremo e penso che analizzeremo quello che è successo. Ci sono stati dei feedback positivi, però dobbiamo, secondo me, prendere coscienza di quello che vogliamo fare, nel senso che la partita di domenica è stata una partita, se vogliamo dire, positiva, ma io la vedo come mancata vittoria perché abbiamo avuto le possibilità, abbiamo avuto le chance di portarci a casa la vittoria ma non siamo riusciti, forse siamo stati troppo bravi, troppo cinici a portare a casa i sette dopo la partita, quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno è che abbiamo fatto dei passi in avanti ma secondo il mio parere per stare ad alto livello non basta e dobbiamo migliorare dopo il 20 soprattutto perché sono i punti che contano e dopo il 20 è la differenza tra chi vince e chi perde. Il tuo esordine in campionato personale come lo giudichi? Io sono contento intanto di essere ritornato in campo perché è la mia quindicesima stagione che inizio e le emozioni soprattutto dopo le vicissitudine estive sono sempre grandi. L'emozione, ritornare poi con questa maglia addosso è sempre stato bello, poi il mio apporto alla squadra spero di darlo sempre, metterò tutto me stesso per farlo perché sono qui per questo. Qualche settimana fa ci avevi parlato di cercare l'equilibrio tra quello che ti direbbe il cuore, la testa e quello che invece ti dice attualmente il tuo fisico, come sono andate le sensazioni in questo senso? No, no, sto bene, mi sento bene e forse manca ancora un piccolo step ma sono abbastanza soddisfatto di come mi sento e di come sto. Dopo la prima di campionato come vedi questa squadra, un mix di gioventù e di esperienza? L'esperienza tua è quella di CEC e la gioventù è quella degli altri che magari in Superlega hanno poche esperienze. Ma come ho detto sai, se prendiamo coscienza di essere una squadra molto competitiva, molto forte e alcuni di noi capiscono che qua a Modena giochiamo per vincere o comunque per competere, per dare tutti noi stessi in campo, possiamo toglierci le soddisfazioni. E penso che abbiamo tutti gli strumenti, poi adesso quando tornerà anche Vlad saremo anche più, abbiamo un organico al completo, però abbiamo già i mezzi anche adesso per fare molto bene. Secondo me questa presa di coscienza, questa consapevolezza dei propri mezzi deve essere il primo step per fare quello scattino che ci permetterà poi in futuro di vincere le partite, i set e speriamo anche qualche trofeo. Tu ti piaci ne hai frequentate tante in questo Superlega o come vedi questo campionato, magari te l'hanno già chiesto, ma il campionato è iniziato a trochi d'ora? Ma di sicuro magari vediamo, io vedo sempre magari due squadre sopra le altre perché è innegabile che hanno cambiato poco, che sono Perugia e Trento. E poi c'è una banda di squadre di outsider che secondo me possono dire a loro ci metto noi, ci metto Verona, ci metto Piacenza, la stessa Milano e la Lube. E quindi sai, secondo me è un campionato che si è livellato ancora maggiormente e ogni domenica sarà importante affrontare le partite con la mentalità giusta e mettere in campo tutto quello che si ha. Domenica è la prima di due partite consecutive in casa, anche se hai il tuo nuovo debutto davanti al Palapanini, ecco che le emozioni. Sicuramente io il Palapanini me lo ricordo come sempre è stato poi in tutti gli anni la casa della palla a volo, quindi sai, sarà emozionante ritornarci con questa maglia e spero che ci siano, che sia pieno, che ci siano un sacco di tifosi come è sempre stato perché potrebbero essere quest'anno, in questa stagione anche un'arma in più per noi. Ecco, Perotazzolina ha stupito un po' in questa prima giornata, ecco, non sarà una partita forse facile anche sulla cata, dato che loro vivono con un po' di entusiasmo. Partite facili solo a briscola, io penso che il campionato italiano non si può affrontare una partita pensando che sia facile o difficile perché, come ho detto, intanto bisogna guardare, io sono dell'idea che prima bisogna guardare la propria parte, bisogna guardare quello che facciamo noi e poi guardare quello che faranno gli altri. e Perotazzolina l'altro giorno ha dato dimostrazione di essere una squadra tosta e di conseguenza loro, quando entrano per la prima volta in Serie A o magari da tanti anni che non ci sono stati, vengono qui a Modena senza pensieri, col braccio libero, quindi sai, è più facile per loro giocare contro Modena e noi dobbiamo essere bravi a metterli sotto pressione subito.